È una scelta non voluta ma diciamo mirata, mirata perché parliamo di sportivi, parliamo di un contesto dove c'è degli sforzi in mane e lì andiamo avanti con proprio le frazioni di secondo. È una persona che potessi rigenerare per potersi quantomeno ricalibrare nella postura, nella corretta posizione di un sano e corretto è, chi meglio di un qualcuno chiamato Yuri Kegi che lo consiglia e visto che considerando quel welfit è, tanto per dire proprio la parola reale, medaglia d'oro del riposo. Per cui questo non è che è un messaggio solo per gli sportivi, diventa facoltatamente obbligatorio per tutti gli sportivi e nonne, perché per me lo sportivo è anche il nonino che fa il taperulane, la massaia che fa la podistica, che fa la ciclistica, la massaia che magari fa la passeggiata. Cioè tutti siamo persone in movimento, la persona in movimento, tornare poi un terzo di vita che non sembra ma noi dormiamo qualcosa come 100 e passa giorni all'anno, dico 100 e passa giorni all'anno, detto questo un conto dormire bene e un conto dormire oltre bene anche a livello posturale correttivamente parlando ad ocche. Per cui consiglio ovviamente i nostri prodotti per un contesto posturale con certificati attestati contro le qualità, ma soprattutto quando parliamo di medaglia d'oro del riposo mi fermo qui perché detto da un campione del mondo è parole sante, lui dorme solo con i nostri prodotti. Vi invito a farci visita, a conoscerci fino in mondo, chi ci conosce sa chi siamo. In questo contesto ringrazio anche tutti i clienti considerando che ne abbiamo veramente tanti soddisfatti e appagati.